Dopo l'arresto avvenuto soltanto lunedì scorso, sempre nel centro cittadino, continua incessantemente l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Questa volta a finire in manette è stato PF crotonese classe 1985 perché nel proprio appartamento sito in una zona centrale della città nascondeva un importante quantitativo di cocaina ed eroina. Nello specifico, nel pomeriggio del 10 ottobre, personale della squadra volante, durante un normale servizio di controllo del territorio, ha effettuato una perquisizione domiciliare di un noto pregiudicato del luogo dopo aver notato movimenti sospetti nelle vicinanze dell'abitazione. All'atto della perquisizione, gli operatori riuscivano a farsi consegnare da PF, messo ormai alle strette, diversi involucri di cellofan contenenti un totale di grammi 45.05 di sostanza stupefacente del tipo eroina e grammi 34,25 di cocaina, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi. Pertanto, gli uomini della squadra volante traevano in arresto PF per il reato di detenzione e i fini di spaccio di sostanza stupefacente. La sostanza sequestrata, in parte già divisa in singole dosi e quindi pronta per essere venduta ai singoli acquirenti, avrebbe avuto un valore sul mercato di più di 5.000 euro. Dopo le formalità di rito, l'arrestato su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, tempestivamente informato, è stato associato verso la casa circondariale in attesa del giudizio per direttissima. Grazie a tutti.